Spingerò le vostre auto al massimo, le preparerò, le modificherò e quando le mie Alfa vinceranno, perché vinceranno di sicuro, la gente correrà a frotte nei vostri saloni a comprare le auto più veloci del mondo. Il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.